Io sapevo che sarebbe stato l'ultimo anno, non andavo male, non benissimo, ma stavo abbastanza benino, una discesa di Volterra, si arrivava a Pisa, si arrivava a Livorno, una discesa stupida, sono caduto, ho sentito un gran dolore, mi hanno portato all'ospedale e il medico dice, frattura, composta ma frattura, si deve ritirare, ma guardi domani c'è il giorno di riposo, aspettiamo domani sera insomma, basta lei non mengesse, dico no no mi ha fatto una fasciatura, il giorno dopo mi ricordo vado in bicicletta sempre con Alfredo Martini, faccio mettere la gomma, la gomma piuma al manubrio, che non potevo, la facevo sicuramente, e dico domani a cronometro, sono solo, perderò minuti, ma io infatti sono arrivato a Lucca, ho perso un po' di tempo, ma insomma, il giorno dopo si arriva a Bologna, proviamo anche domani, se faceva la collina, strada di casa mia, sono arrivato in gruppo, soffrendo però, poi è cominciato a piovere, mi sono un po' ripreso, e il giorno dopo c'era la Bologna a San Luca, Madonna di San Luca, allora la mattina sono andato a provare e non ce la facevo, perché non potevo tirare, non potevo tirare, e allora è Masi, il mio grande meccanico, Fagliaro Masi, oh non ti preoccupare, guardate là, prendo un tubolare, lo taglia, questa camera darla, legame manuale, ti dico i denti e vedrai che c'era, infatti è quella foto là, che vediamo, che è stato, non ho messo piede a terra, sono andato in cima, vabbè, ho perso un po' di tempo, il giorno dopo però, si arrivava a Rapallo, e questa è la tragedia, prima delle salite da Benino, prendo una buca, mi cado sulla frattura, mi sono svenuto dal dolore, mi sono svenuto, ho delle foto stupende, dal dolore l'autombulanza, mi caricano sull'autombulanza, io mi sveglio, perché il povero barone mi dà un po' d'acqua, bloccano l'autombulanza, scendano e dicono, no, no, io non mi ritiro, per l'amor di Dio, e infatti io, il gruppo, era molto in gruppo, mi ha aspettato quasi, sono rientrato, a Rapallo, non so come sono arrivato, poi da Rapallo salendo a Vallecco, da Lecco a Sondrio, a Bormio, Sondrio, Bormio, poi si arrivava a Merano, e io con queste spalle sento tanto dolore, tanto dolore, però insomma, io sopporto il dolore, la fortuna di mia mamma che mi ha fatto in un certo modo, e quindi ho sopportato questo dolore e sono arrivato poi alla fine sulla grande tappa, ho rischiato di vincere il quarto giro, eh. Quando poi il lunedì sono andato all'istituto, come si chiama, a Milano, quello delle ossa, il professore mi ha fatto la radiografia, lei ha due fratture, la clavicola e l'omero, mi ha insultato, mi ha detto che ero pazzo, mi ha ingessato tutto per un mese e mezzo, 45 giorni. Io però cosa ho fatto? Avevo già il posto dove siamo qui a questa intervista, sono andato in officina dopo 25 giorni, ho preso il mercato e ho detto, prendi le forbici della lamiera, tagliami il gesso, perché io mi devo allenare, c'è campione in mondo, non posso… Infatti mi ha tolto il gesso e ho cominciato ad allenarmi e quando sono tornato dai professori, infatti ho questa spalla un po' più avanti, non parlo con la spalla e non cammino con la spalla e quindi se anche un po' più avanti non mi importa niente. Fausto Coppi definì Fiorenzo Magni il corridore più intelligente che abbia mai incontrato in vita sua. Magni era un calcolatore. All'inizio del 56 aveva deciso e l'aveva comunicato anche gli organi di stampa, questa sarà la mia ultima stagione. Mantenne la parola. Al Giro d'Italia ebbe quel doppio incidente, doppia frattura, prima la clavicola e poi l'omero, ma non volle ritirarsi, volle onorare la parola data di finire quel giro. Ebbene, la tappa del Bondone lo consacrò come fa Chiro contro il freddo, arrivò sul Bondone in terza posizione e nella tappa, sempre la stessa, Trento-San Pellegrino con un percorso diverso rispetto all'anno precedente, cercò di attaccare Charlie Gaul. Questa è una storia che sanno in pochi. Me la confidò Albani che si impose proprio in quella tappa, la Trento-San Pellegrino del 56. Magni aveva previsto e avvisato i suoi fedelissimi. Attaccherò sul lago di Garda per mettere in difficoltà Gaul, che era rimasto senza compagni di squadra. E in effetti questo attacco, un po' dopo il lago di Garda, verso la città di Brescia, ci fu, guadagnò 200 metri Magni. Gaul, senza compagni di squadra, però venne aiutato da un gregario di Fausto Coppi, che nel frattempo si era ritirato, Ettore Milano. Ebbene, Milano diede una mano a Gaul, una spinta all'americana, così raccontano i testimoni. Ad Albani venne raccontato proprio questo. E Gaul riuscì a rientrare. Quindi Gaul vinse il giro, Magni in seconda posizione, ma Magni, nonostante il suo deficit fisico, non mollò nemmeno in quell'occasione l'idea di poter primeggiare. Però quello che fece con Omero e Clavicola fratturati è entrato di fatto nella storia del ciclismo. Grazie. 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 Grazie.